Tutti, tanto grazie di questa opportunità di essere qui per il secondo anno consecutivo e ringrazio davvero gli organizzatori perché oggi ci vuole davvero anche coraggio e spirito innovativo in questo Paese per cercare di promuovere la scienza, in un Paese in cui si fa di tutto per cercare di impedire la promozione della scienza e questo bisogna dire. Il titolo che avevamo concordato con gli organizzatori è ovviamente un titolo provocatorio, scelto apposta per cercare anche di discutere su questo aspetto di cui ogni giorno leggiamo qualcosa di vero, di falso, di che cos'è, cosa si può fare con questa straordinaria molecola. Allora io comincerei a farlo con una parola di uno dei suoi due scopritori della straordinaria molecola nel 1953, che appunto Jim Watson, che vedete qui fotografato da non molto tempo fa, disse che questa molecola e quindi di cui sono fatti i geni chiaramente, ormai lo sappiamo, non sono molecole ordinarie così come si pensa di solito quando si parla di una molecola chimica, ma hanno qualcosa di importante, di fondamentale perché cosa fanno? Trasmettono le istruzioni per costruire gli umani, quindi immaginate quando uno ha una definizione del genere, capite che è una definizione straordinaria, è qualcosa di, non è comune, no? Parliamo di una molecola che fa questo. In effetti, se voi guardate oggi quali sono le conformazioni del DNA all'interno di una cellula, si rende conto che è una molecola anche dal punto di vista strettamente chimico, un po' straordinario, perché sembra banale la doppia elica, uno pensa come è fatta, e anche quando loro hanno definita la struttura era abbastanza semplice, oggi è semplice, all'epoca non lo era, di quando hanno messo in fiore, una forma di pila, delle basi azotate, dell'acido ortofosforico e dello zucchero. Sembrava semplice costruire. Oggi sappiamo che non è così semplice, queste sono le forme in cui troviamo il DNA e l'RNA, quindi l'altro acido ribonucleico, all'interno delle nostre cellule e l'organizzazione strutturale corrisponde anche a funzioni diverse che può assumere. Quindi sembrava una molecola monotona, no? Immaginate all'interno di un nucleo ci sono due metri di questa molecola, uno dice due metri di questo filo lungo, avvolta delica, sembrava abbastanza banale come molecola, eppure fa tante cose. Beh, insomma, se voi guardate queste strutture incredibili, non è che sia poi così banale. Beh, in effetti che qualcosa di straordinario ce l'avesse non è, è nato già molto tempo fa, quando un altro premio Nobel, che vedete lì, che è polling, e che è stato un premio Nobel per la biochimica, che ha scoperto la struttura dell'emoglobina, guida di una proteina molto importante per noi oggi nel sangue, sapete, lui definì e scoprì per la prima volta che alla base di una malattia come l'anemia falciforme, una malattia che riguarda proprio l'emoglobina, che sapete, quando c'è una mutazione in un punto preciso del gene che codifica per una delle catene dell'emoglobina, fa assumere ai globuli rossi questa forma falce, e che poi naturalmente è responsabile di una forma di anemia molto seria. Ma è una malattia ereditaria questa, poi ne parleremo un po', ma fu la prima malattia per la quale si cominciò a parlare di una base chimica di una malattia, perché fino a quell'epoca oggi è banale dire che tutte le malattie hanno una base chimica, molecolare, metabolica, ma quando ci poniamo in quell'epoca lì non era così facile pensarlo, si pensava che le malattie fossero dovute a tanti altri aspetti, ma non a una singola alterazione di una singola molecola chimica. E devo dire che un altro famoso ed importante premio Nobel che è Paul Berghe, ancora vivente fortunatamente, e ha dichiarato non molto tempo fa in una sua recente conferenza, ha detto che noi dobbiamo sempre, io, ma insomma noi dobbiamo partire sempre dal concetto che tutte le malattie hanno una base ereditaria, tutte. E questa è un'affermazione molto forte detta da un grande premio Nobel che ha scoperto gli enzimi di restrizione, che sono delle proteine che oggi servono a tagliare il DNA, a studiarle, a fare tutto quello che è la base dell'ingegneria genetica, senza gli enzimi di restrizione non potremmo fare l'ingegneria genetica. In effetti oggi a guardar bene uno può fare una specie di schema, come ho fatto io qui sopra, e così ho ipotizzato questa molecola per una persona che vive, quante volte lo incontra nella vita o cui può farne a meno oppure ci si deve confrontare. Ebbene, non è così semplice perché ognuno di noi può stabilirsi di essere portatore sano di una malattia ereditaria e lo fa attraverso lo studio del DNA. Può studiare addirittura prima che uno nasca, quindi a livello di embrione, quando ancora quindi non si è nemmeno impiantato nell'utero, quindi a livello di quella che chiamiamo una diagnosi pre-impianto, quindi prima ancora che l'embrione possa essere messa in un utero, se c'è un difetto genetico, studiando il DNA. Quindi ancora prima che uno possa diventare qualcosa di vivente che vada avanti. Poi quando diventa feto, è chiaro che può anche essere il test che oggi usiamo nel signore in gravidanza per stabilire se il bambino, il feto in questo caso, sarà o meno affetto da una malattia genetica, si fa la diagnosi pre-natale. E quindi studi lo stesso il DNA. Poi vai avanti e fai alla nascita, alla nascita fai quello che noi chiamiamo oggi lo screening neonatale. Tutti i neonati, voi sapete, gli si prende una goccia di sangue dal tallone, e normalmente si fa così, ormai in Italia si fa per 60 malattie diverse, c'è una nuova legge approvata da poco, che prevede lo screening delle malattie metaboliche, perché a saperlo alla nascita si può arrivare addirittura a prevenirlo, a guarirle alcune forme di queste patologie. Uno poi va avanti e trova che addirittura il 10% delle malattie pediatriche, diciamo in età pediatrica, hanno una base genetica. Il 10% dei bambini ricoverati negli ospedali pediatrici lo sono perché hanno una malattia genetica, non perché hanno preso un virus o qualcos'altro. Quindi sono numeri importanti. Poi, naturalmente, uno scopre a una certa età da grande di aver ereditato una predisposizione, chiamiamola, tra virgolette, a quelle che sono le malattie di tutti, le malattie dell'adulto. Quali sono? Il diabete, il cancro, l'Alzheimer, il Parkinson, i reumatismi, la psoriasi. Cioè, parliamo di quelle che sono il 50% delle malattie dell'adulto, hanno comunque, non dico una definizione strettamente genetica, ma una sorta di predisposizione o di suscettibilità, di cui studiando il DNA oggi si può arrivare a stabilire se sei predisposto o meno. Fino ad andare avanti e oggi troviamo quella che è la nuova, la nuova, diciamo, genetica che sta dando molto forte. Cioè, addirittura, sappiamo, oggi, che se tu assumi un farmaco, nel 60-70% dei casi forse non ti fa niente o qualche volta fa male, ma addirittura attraverso la genetica possiamo sapere se a te quel farmaco ti farà bene o ti farà male, o se può avere effetti collaterali, chiamiamoli così, oppure se hai bisogno di un altro farmaco. E questa scienza si chiama farmacogenetica, di cui dirò qualcosa. Lo stesso per le malattie infettive, che uno dice, ma cosa c'entra? Ci hai appena detto che non c'entra niente con la genetica perché è dovuta a un virus, ma se io liberassi un virus qui dentro, senza che nessuno si sia vaccinato, ci sono quelli che si ammalano e quelli no. E perché questo? Perché ci sono alcuni che hanno una resistenza immune a quel tipo di virus e non lo prendono, chiamiamo, diciamo così, e questo è geneticamente determinato. E quindi, come vedete, andando avanti, poi potrei continuare fino alla fine, addirittura oggi facciamo l'autopsia molecolare, cioè dopo la morte, dobbiamo delle volte fare delle analisi del DNA, non solo per stabilire chi è, magari per un'identificazione personale, come facciamo nei casi, diciamo così, di medicina forense o di identificazione dei migranti o quant'altro. Pensate che il barcone che lo scorso anno sono morti 800 migranti in Sicilia, stiamo facendo in questi giorni, tutte le università italiane, davano un contributo per identificare questi morti, i cadaveri e i rapporti di parentela, addirittura studiando il DNA di questi corpi. Quindi, allora, uno vede questa diapositiva e dice, beh, insomma, è chiaro che questa molecola è veramente quello che ho detto prima, è vita, perché è tutto, addirittura dopo la vita ci serve a capire a chi siamo, cosa facciamo e che cosa abbiamo. Evidentemente è qualcosa di straordinario. Al punto tale che di queste cose qui, però, a quell'epoca, qui siamo intorno agli anni più o meno, ma anche più avanti, 1930-1940 negli Stati Uniti, in cui addirittura si partì con una prima idea di sterilizzazione di massa, in che senso, alle persone che avevano una familiarità per forme di malattie mentali, in questo caso, fu una legge dello Stato, con un episodio, diciamo, secondo me usato in maniera anche impropria, una scienza nata che si chiamò eugenetica, la genetica buona, che portò addirittura a delle, diciamo così, aberrazioni, come richiamo io, ma soprattutto legate alla non-conoscenza, o se volete, all'ignoranza dell'epoca e della genetica, che però portò a delle scelte incredibili, cioè era talmente importante capire che certe forme di malattie si trasmettono in famiglia, che l'unico modo per non averle, pensavano, nella popolazione, è quello di impedire che la gente si riproducesse e trasmettesse queste istruzioni che diceva appunto Jim Watson per creare l'uomo. Questa è una scienza antica, vecchia, che alcuni ritenevano che addirittura, no, alcune forme, non lo so, c'era la personalità a diventare criminali e questo fosse scritto nel DNA. E ci furono istituti addirittura, vedete, quindi fenomeni enormi, che soprattutto partirono in America, poi anche in Europa, addirittura i nazisti lo usavano per certi versi, pensavano che un controllo su questa scienza, che era appunto agli albori all'epoca, fosse qualcosa di importante, perché sistemando, conoscendo bene le famiglie, si potevano ottenere figli sani e buoni e belli. E ancora oggi c'è qualche slogan di qualcuno che dice se vuoi figli sani e belli devi fare questi test, queste cose, perché quindi, insomma, è chiaro che da molti anni, come vedete, anche se poi solo negli ultimi 10, 15, 20 anni conosciamo bene la genetica, ma già ne potevamo intuire la forza, l'importanza, la potenzialità di conoscere una molecola che, come avete visto, è alla base di tutto ciò che facciamo, non c'è ombra di dubbio. E, di conseguenza, voi pensate che adesso essere albini, come questo ragazzino in Africa, può cambiargli completamente il destino, perché questi in alcuni tribù li fanno fuori prima, perché pensano che siano, appunto, persone che abbiano qualcosa di magico, di non comune e che portano anche sfortuna e quindi li devono eliminare. E questo, invece, uno di quei bambini che nasce con una mutazione genetica, ne nasce uno ogni 11.000 più o meno, che nascono anche in Italia, più o meno questa è la frequenza degli albini, una persona su 11.000 nasce con l'albinismo, che è una forma, se volete, di patologia, ma che tutto sommato sono persone normalissime. Quanti di voi conoscono gli albini? Non avrete mai visto, non sono per niente dei supereroi o hanno qualcosa di magico, sono persone normali. E, però, vedete la cultura, come può influenzare e far cambiare completamente l'atteggiamento. Come anche situazioni di questo genere, un bambino, bello, sano, così, fotografato, questa è una foto di un vecchio libro del 1800, a dieci mesi, guardate come diventa questo bambino a 14 anni. Perché? Perché uno che ha una mutazione in un solo gene, in una singola base genetica del DNA, che è mutata, ne nasce uno ogni 8 milioni di persone, per un semplice caso, e non è trasmesso dai genitori. Perché questa malattia è una mutazione, come noi le chiamiamo de novo, cioè non è presente nel DNA dei genitori, ma muta normalmente, noi abbiamo dimostrato che muta attraverso lo spermatozoo, e quindi nel padre soprattutto, che c'è una mutazione in una di queste lettere del codice genetico e tu nasci con quella che è chiamata la progenia di Atkinson-Gilford, che sono malattie terribili, la forma più drammatica di invecchiamento precoce di un uomo. Cioè sono ragazzine di 14, 15, 16 anni che sono praticamente assimilabili a dei signori o dei vecchi di 80 anni, perché hanno esattamente, non solo l'aspetto, ma anche tutti i problemi, gli acciacchi, di una persona di 80 anni. E questo è estrettamente genetico, perché è una base che cambia, come l'anemia falciforme, che ti causa così. E tu non puoi fare niente, non puoi né bloccarlo né arrestarlo. Stiamo sperimentando ovviamente cure, farmaci, insomma il mio laboratorio ha contribuito molto a scoprire la causa di questa malattia nel 2002 e ci stiamo lavorando ancora oggi con questi ragazzi che sono straordinari, ci parli, sono intelligentissimi, perché hanno il cervello di un ragazzo di 14 anni. Ed è drammatico che ti chiedono ma io perché devo essere vecchio? Si sentono con un cervello giovane in un corpo vecchio. Ed è qualcosa di incredibile, sembra un film di fantascienza. Eppure è così, guardate la potenza di questa straordinaria molecola. Come anche molte altre caratteristiche, vi dicevo, che riguardano, non so, la sindrome metabolica, come chiamate, che è quella che colpisce oggi, diciamo, più di 400 milioni di persone nel mondo che parliamo del diabete, dello sclerosi e obesità, sono facce della stessa medaglia, collegate molto a quello che facciamo, allo stile di vita soprattutto, a ciò che mangiamo, ma lo facciamo anche perché noi abbiamo certe caratteristiche genetiche che ci predispongono a certe cose. Ve lo faccio vedere con quello che qui in questo diapositivo ho chiamato il lato buono, diciamo il lato cattivo del DNA. E che cos'è? Questi sono gli indiani Pima dell'Arizona, fotografati nel 1888, e così come era l'Arizona a quell'epoca più o meno. Questi sono gli indiani Pima dell'Arizona di oggi, ovviamente non gli stessi, sono passati 200 anni, ma insomma, la popolazione degli indiani Pima, uno su due di loro, cioè il 50% della popolazione è affetta da obesità, diabete e aterosclerosi. L'Arizona è diventata così però, è piena di fast food, di mondo occidentale di vivere. Allora, cos'è successo? È vero che è cambiato l'ambiente, non c'è ombra di dubbio, ma l'ambiente americano da così a così è cambiato anche per gli indiani in Afaco, o per gli Apash, o per altri indiani. Ma non sono diventati così, solo loro sono diventati così. Come mai? E noi oggi lo sappiamo, e sono questi segnali qui che vedete, che sono i geni, che sono stati identificati, che qui c'erano, perché i geni non sono cambiati da 200 anni. Noi abbiamo più o meno gli stessi geni che avevamo 10.000 anni fa e non sono cambiati molto. I geni mutano, ma non sono cambiati così tanto. Cosa è successo? Qui, questi geni qui, erano protettori, perché c'erano periodi in cui questi non mangiavano per settimane intere. E quei geni lì, li proteggevano, perché tenevano alti i livelli di colesterolo, di glicere, di nel sangue, perché così potevano permettersi di non mangiare una settimana e non succedeva niente, dico per dire. Oggi, mangiano tutti i giorni, meno male, dico io, però mangiando tutti i giorni, quei geni che qui erano protettori, sono diventati negativi. Cioè, loro ragionano come erano 200 anni fa, non è che sono cambiati con la mentalità. Cioè, il DNA non si è adattato ai cambiamenti incredibili dell'ambiente. fa le stesse cose che facevano qui e quindi cercano di proteggere, no? E qui favorivano queste persone, ma oggi sono sfavorevoli, non più protettori. Ecco, questo è il DNA. E che cosa succede? Pensate che la stessa cosa è accaduta anche di recente nell'isola di Samoa, che nel Pacifico, è un'isola straordinaria, perché c'è il maggior numero di obesi al mondo. vivono qui, da questa parte è l'isola che produce i lottatori di, come si chiama, di Sumo. Esatto, di Sumo. Vengono tutti da lì, perché vengono prodotti da questa isola. Perché, vedete qui, mangiano bene, vedete loro tutti così, non lo so. Ma l'isola di Samoa, negli anni 30, vedete le foto, erano così. E com'è che sono diventati tutti così? Perché si sono occidentalizzati a un sistema di vita, di geni, che invece erano lì, selezionati anche per certe ragioni. Probabilmente il mondo è troppo grasso, sta diventando così, è un'evoluzione genetica di DNA, che prima era fatta in un certo modo, per permetterci di vivere in un altro modo. E questo, devo dire, sta cambiando il nostro modo di vivere. Pensate che l'84% delle persone di età media, 50, così qua, in India, è obesa. Ci sono numeri impressionanti, ed è quello che è chiamato una pandemia, non di virus. Ecco perché stiamo cercando di capire, anche perché questa molecola ci può dare qualche informazione per cercare di fermare questa pandemia. E allora, ritorniamo a questa straordinaria molecola. Perché è così importante? Perché ne passa, lo so, 3-4 miliardi di anni da cui c'è la vita su questa terra, come la conosciamo noi, e il DNA è alla base di questa vita? E' chiaro che è una molecola che viene fuori da pezzi diversi, da forme diverse, da specie diverse, che si è unita con trasferimenti trasversali, perché comunque il DNA è nelle piante, nei virus e nei funghi, quindi è chiaro che è sempre la stessa molecola. Si modella, cambia, muta, si trasforma, ma è sempre il DNA e lo troviamo in tutte le forme dei viventi. Oggi non c'è nessun vivente che non abbia DNA o RNA, diciamo, se i virus e il RNA possono essere ritenuti dei viventi. Noi oggi sappiamo addirittura che una parte del nostro DNA, noi siamo uomini, diciamo, moderni, viene addirittura dal DNA dei neandertaliani, cioè circa qualcosa come il 3-4% del nostro DNA viene dagli uomini di neandertal. Questo ha permesso di dire che l'uomo sapiens, sapiens e i neandertaliani si sono anche incrociati tra di loro. E prima non lo pensavamo, pensavamo che fossero due specie diversi che una ha sostituito l'altra, o perché l'abbiamo fatti fuori, qualcuno dice questo, o perché qualcos'altro, però oggi abbiamo addirittura, pensate, c'è in vendita negli Stati Uniti un test che costa 300-400 dollari, mi pare, che vi dice quanto DNA di neandertaliana avete dentro. Fa di moda questo, uno dice perché lo può sapere. Ecco, questo per esempio ci dice che tu hai a questa signora che gli è stato fatto il test hai 291 varianti, varianti significa variazione del DNA di provenienza neandertaliana. Vabbè, dopo di questo ne possiamo discutere perché è una bella domanda. E voglio dire, te lo compri con 400 dollari, si può fare con un po' di saliva, e beh, magari può stabilire quando sei, uno dice, vabbè, quanta aggressività ciò che viene dai neandertaliani. e uno può dire ho avuto delle malattie psichiatriche, pare che molte forme di malattie degenerative psichiatriche vengono dal DNA dei neandertaliani perché all'epoca serviva. Alcuni problemi di difetti immunitari che abbiamo vengono fuori da modelli genetici perché ai neandertaliani serviva in quell'ambiente avere certi geni. Oggi no. E tu, come dicevo prima del diabete, te lo porti dietro questo DNA. E uno dice, vabbè, il problema giustamente dice il signore ma una volta che l'hai saputo non lo posso cambiare. Anche se sapessi che poi non è detto che è negativo, che magari è positivo e quello lo devi togliere, beh, non lo posso togliere. Quindi, però, è bene, a curiosità, a volte uno vuole sapere, beh, sa, negli americani vendono anche il DNA per far vedere l'origine ancestrale, no? So, sette generazioni da dove viene la sua famiglia. Glielo dicono attraverso il DNA e non con gli studi araldici. E quindi le trovano, non lo so, 10% del suo DNA viene dall'Irlanda. E vabbè, glielo dicono e lei può dire. vabbè, sai, per esempio, guardi, noi, a noi serve, però guardi, per esempio, in America, le dico, sapere quant'è la quota di DNA, lì ovviamente c'è una grossa componente che viene dall'Africa, nel senso dei black, quindi dei neri che ci sono, c'è una buona quota, meno del 20%, allora, quelli neri, quando devono trovare un lavoro, si dimostrano di avere più DNA di bianco, diciamo, di quello che dovrebbero avere mediamente, più o meno il 27%, esattamente, bravo, può aiutarla a trovare un lavoro più di un altro, sembra paradossale, ma questi sono gli eccessi, poi, dell'uso, magari, discriminato della biologia. Ci sono alcune forme per capire quanto può essere importante studiare alcune forme di DNA, voi pensate, ad esempio, alla dermatite atopica, che è una malattia che riguarda i bambini, quando diventano i pannolini, gli ricambio, tutti quegli arrossamenti che ci hanno, è proprio molto comune nei neonati la dermatite atopica, anche questa è una malattia genetica, ed è dovuta ad una variazione in un gene che si chiama filagrina, che, ad esempio, è molto frequente in Inghilterra o in Irlanda con il 27-30% di mutazioni, ed è quasi assente in Italia. Noi per anni siamo impazziti perché i colleghi inglesi trovavano mutazioni nel gene della filagrina e noi in Italia non le trovavamo e quindi pensavamo ma che è un'altra forma di dermatite in Italia o un'altra? Invece no, è semplicemente legata al fatto che la filagrina che è una molecola della, diciamo così, della, se volete, della protezione della pelle, ecco, al sole, cosa fa? Qui ce n'è di più perché serve agli inglesi e ai paesi nordici a fare entrare più radiazioni e quindi naturalmente a favorire la vitamina D e tutto il resto. In Italia, nei paesi del sud Europa, fortunatamente c'è molto più sole e quindi questo diventava peggiorativo perché faceva morire in quanto poi che causava danni al DNA per cui la filagrina si è chiusa di più se volete quindi si è eliminata però abbiamo migliorato una cosa e tolto un'altra e viceversa lì hanno maggior bambini con la dermatite però stanno meglio perché possono assorbire più radiazione perché ce n'è poco sole quindi insomma vedete come lavora il DNA si interagisce fortemente con l'ambiente al punto tale che ci sono scoperte che uno dice guardate che ci sono dei geni che oggi possono rendere dei popoli più felici di altri e questo abbiamo trovato l'elisir non bastano come vedete non sono i soldi a fare la felicità come diceva qualcosa ma evidentemente il DNA che rende popoli che hanno economicamente svantaggi o che non stanno bene e che invece sono felici lo stesso beh ne abbiamo un po' di questi e per quale ragione guardate che non è una fesseria una fake news giornalistica perché c'è una variazione in un gene che si chiama FAC che costruisce una proteina che è molto attiva nella nostra amigdala che è molto importante che rende praticamente come dire che poi ha a che fare anche con la marijuana questo che è un recettore di alcuni diciamo così di questo piaci e quant'altro cioè che cosa fa diciamo fa assorbire meglio i cattivi pensieri o le difficoltà della vita ma questo è normale ognuno di noi può affrontare un modo in maniera diversa quindi questo è dovuto a variazioni all'interno del DNA così come anche alcuni studi suggeriscono che ci sono geni che modificano i recettori della serotonina e sono più frequenti in persone che hanno maggiore propensione all'infedeltà per cui c'è già un test per vedere se uno appunto prima di sposarsi è infedeli o meno e qui uno può anche decidere ma sai quanti divorzi potrebbe evitare se uno lo sapesse prima scusate eh cioè io vorrei saperlo prima perché così magari evitiamo poi spese legali tutto un problema i figli abbandonati quindi qualcuno già comincia ad usare questo allora ma c'è anche il contrario sono quelli che hanno una maggiore propensione al diciamo così alla vita di coppia e quindi più propensione al matrimonio in sostanza con queste ultime diciamo così diapositive di carattere generale era per portarvi al 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 mio collega Emilio Milansky statunitense che dice il nostro in un libro che ha pubblicato che appunto il nostro destino nel DNA come dire conosci i propri geni puoi salvare molte vite al di là del matrimonio o di cose del genere in effetti questo è vero perché noi oggi abbiamo delle mappe questa è una di queste di cui conosciamo molti dettagli dei nostri cromosomi e quindi del nostro DNA ogni pallina colorata corrisponde lì ad una gene che è associato a qualcosa all'Alzheimer al Parkinson alla psoriasi al lupus a qualcos'altro e quindi si può costruire una mappa di questo genere che uno può leggerla e cercare di capire cosa c'è scritto nel proprio DNA questo l'ha fatto tempo fa e lo abbiamo fatto anche noi ogni tanto lo facciamo in Italia ci sono ve lo dico subito almeno fino all'anno scorso quando mi sono fatta anch'io la mia mappa del DNA 17 persone che sono letti tutte in proprio DNA ce ne sono 17 io sappia alcuni sono anche qui ho visto invitati ma insomma non posso rivelarglielo ovviamente io di me posso parlare degli altri no anche questo mio collega che invece Stephen Quake che ha avuto il coraggio di pubblicare i suoi dati quindi così come Jim Watson se li ha pubblicati e quindi sono conosciamo di alcune persone lui si è letto il suo DNA è un collega genetista all'epoca aveva nel 2010 45 anni si è letto il DNA attraverso il sequenziamento del genoma e ha trovato una predisposizione all'infarto una predisposizione al diabete una predisposizione al cancro delle paratiroide ha fatto un rischio di obesità ha trovato però un basso rischio di sviluppare l'Alzheimer allora lui è entrato sano nel laboratorio la domanda che vi faccio è ancora sano dopo che è uscito dal laboratorio e allora lui si è letto tutte queste cose ci sono scritte nel DNA non è che sono stupidaggine è vero allora chiaramente lui adesso sta benissimo e non ha subito niente cos'è questo sono errori certo vanno interpretate queste e ci sono delle situazioni in cui si possono approfondire il rischio e vi dico che di tutte queste cose che aveva lui qui quelle serie diciamo quelle in cui c'è una base importante sono quelle che riguardano il rischio di infarto e di diabete perché ha avuto c'è una familiarità il padre è morto di X a 66 anni e c'è uno zio che ha avuto un infarto di conseguenza adesso ha cambiato stile di vita mi ha detto prende le statine fa un po' di attività fisica in più sta attento alla dieta e diciamo che conduce una vita normale questo sistema più o meno come lo vedete qui oggi va molto di moda perché si può fare attraverso internet se voi andate nel sito 23andyouandme è una società americana che offre questo test e che vi fa tutto quello che volete sapere sul DNA non costa nemmeno molto ci sono pacchetti diversi si può mandare la saliva si raccoglie qui vedete questo è un raccoglitore di saliva ci si sputa dentro la saliva finisce dentro si spedisce invietro e ti arriva la risposta via internet uno paga con carta di credito e c'ha l'informazione sul proprio DNA vedete addirittura questo è di due giorni fa perché welcome to you è per la pezza della mamma che sapete è la seconda domenica di maggio e dice regala alla mamma il test del DNA vuoi dire è una cosa una cosa molto simpatica di infedeltà magari oh certo certo bravissima si può regalare di tutto ma pensate che ci sono dei 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 party in America come voi voi ragazzi vi riunite a casa di qualcuno per fare un party una festa e vi regalate questo kit che cosa succede fanno il test dell'infedeltà o della promenzione al matrimonio gli americani chiamano sputa party perché si sputa dentro e e si e si inviano poi il DNA e dopo una settimana si rivedono e commentano un po' come facevamo noi ai tempi giocavamo con altri sistemi e questo è più o meno e poi paghi pegno no è una cosa di questo genere una cosa incredibile perché è banale costa veramente da 100 dollari ormai costano molto poco questi test in sostanza è possibile che se uno offre questo lo può fare tant'è che il time del 2012 quindi non molto tempo fa uscì con questa copertina voglio conoscere o vorrei conoscere il mio futuro e in un certo senso lo puoi fare perché oggi questi test ti consentono di farlo che cosa si usa in Italia vanno molto di moda ad esempio non fortunatamente quello dell'infedeltà o del matrimonio ma va molto di moda invece i test per sapere cosa mangiare e quindi ti fanno la nutrigenomica o la nutriceutica associata al DNA e ti dicono attraverso il DNA ti fanno la dieta personalizzata in base al tuo genoma e quindi ti dicono tu puoi mandare qualcosa è quello che io ho chiamato che in questi giorni ho scritto un articolo su un blog su questo in cui dico il genoscopo c'è una sorta di oroscopo basato sui geni perché è un po' sembra quasi un genoscopo tu ti fai un DNA e quindi cerchi tutto ma il punto è siamo arrivati a dunque è veramente così? serve a qualcosa? è tutta stupidaggine? o appunto sono falsità o no? no diciamo che ovviamente un qualunque test genetico deve avere una base scientifica e molti di questi test ce l'hanno cioè non sono invenzioni come l'oroscopo è reale perché la molecola chimica c'è tu puoi verificare se quella variante ce l'hai o non ce l'hai quindi non puoi dire che è una stupidaggine è vera perché c'è bisogna vedere quanto di quello che troviamo nel DNA poi si esprime in quello che noi chiamiamo il fenotipo cioè quello che tu vedi fai e avrai e quindi quello che potrebbe essere una diagnosi un trattamento un effetto clinico di rezzo e qui ci sono molte cose in mezzo come vedete molte cose in mezzo che non possiamo discuterle qui tutte ma vi faccio qualche esempio per arrivarci questa la conoscete tutta tutti scusate è una bellissima donna si chiama Angelina Jolie una grande attrice voi sapete che qualche anno fa si è sottoposta a un intervento chirurgico incredibile praticamente si è fatta togliere le mammelle preventive un intervento che si chiama mastectomia bilaterale preventiva oppure si è tolto una oroftomia cioè si è tolta anche le ovaie perché lei non aveva nessun cancro né alla mammella né all'ovaio però ha fatto un test genetico che il risultato positivo al cancro della mammella e all'ovaio con una probabilità di sviluppare questo tumore nell'ordine dell'80-85% da qui a 4 anni questo era il risultato clinico la madre è morta di cancro al seno e la sorella è morta di un tumore all'ovaio è così anche una zia adesso voglio vedere chi di voi avrebbe fatto una cosa del genere ed è un test importante è un test che è servito adesso voi sapete si è operata non è che ha fatto un intervento banale è un intervento durissimo per una donna è anche difficile come intervento chirurgico eppure voi pensate che una rivista americana nel 2014 non molti anni fa ha detto guardate che se tu hai un cancro oggi la prima cosa che devi farti è un test genetico sembra una cosa assurda non che ne so farti vedere dall'oncologo per carità è ovvio che ti devi dare dall'oncologo ma è fondamentale questa conoscenza genetica per quale ragione ve lo faccio vedere qui noi fino ad oggi più o meno al 2000 e qualcosa abbiamo fatto avuto una terapia anche per il cancro piuttosto empirica che ha funzionato in alcuni casi in molti altri casi no purtroppo ma non avevamo strumenti importanti perché il cancro non è una malattia ma sono mille malattie e ricordiamoci che è una malattia del genoma il cancro è una malattia del DNA in qualunque cancro c'è il DNA che si ammala non esiste non esiste un tumore senza un DNA alterato poi da capire perché è alterato quel DNA e qui discutiamo se uno fuma se uno assume certe cose radiazioni o qual'altro ma la cosa è certa quello che si ammala nel cancro è il DNA un DNA che si altera che viene mutato che viene alterato e prima avevamo fatica a studiare tutto questo DNA oggi possiamo studiare il DNA del cancro senza problemi analizzare anche una singola cellula cancerosa prima non lo potevamo fare abbiamo addirittura strumenti vi dirò dopo in cui possiamo vedere il DNA alterato del cancro che gira nel sangue delle persone sane quindi è cambiato tutto perché si sta aprendo un mondo nuovo di terapia di terapia che funziona che è mirata che è precisa che va esattamente dove deve colpire dei farmaci che sanno dove andare e questo è dovuto alle conoscenze del DNA abbiamo dei farmaci oggi che funzionano solo se tu hai una malattia come un tumore al seno da mutazione in questo gene che si chiama BRCA1 che è quello mutato in Angelina Jolie cioè lei ha avuto quel cancro perché aveva una mutazione in questo gene abbiamo addirittura dei farmaci che prima non usavamo per il cancro ma li utilizzavamo per l'artrite che oggi sappiamo che funzionano anche per il cancro della mammella perché il difetto genetico ci consente di dire senza scoprire un nuovo farmaco che l'auranofina ad esempio che usavamo per l'artrite quindi già ce l'abbiamo può essere usato nel cancro della mammella di risultati che possono essere importanti sappiamo ad esempio che se alcune forme di tumore ai polmoni che hanno una mutazione in un gene particolare il farmaco se hai la mutazione funziona se non hai la mutazione non funziona e il farmaco è inutile darlo perché costa e ti fa perdere magari sei mesi di trattamento con un altro farmaco questo non lo sapevamo prima del DNA lo sappiamo adesso abbiamo numerosi farmaci che sono qui i nomi e qui l'indicazione del cancro con il caolon retto delle linfomi il tumore della mammella che funzionano solo se conosci certe forme di mutazioni in alcuni DNA cioè sta cambiando tutto come vedete cioè la conoscenza del genoma sta portando a cambiare completamente voi pensate alle malattie del sangue oggi non sono più viste come 80 100 anni fa che erano delle cose drammatiche una leucemia era considerata oggi non dico che è una passeggiata però è accettata un po' meglio perché perché nel 90% dei casi abbiamo farmaci che funzionano perché in quel 90% dei casi di quelle forme di leucemia sappiamo il difetto genetico e sappiamo quale farmaco usare c'è una cosa veramente incredibile quello che è successo e andando di questo passo cominciamo adesso ad utilizzare addirittura sistemi che si chiamano valutazione del rischio individuale su persone sane per capire quello che vi dicevo prima quanto DNA è alterato in una persona normale perché tutti noi produciamo alterazione del DNA perché è normale il DNA si replica e quando si replica è come le fotocopie ogni tanto una fotocopia sbaglia viene eliminata quindi abbiamo sistemi di valutazione ci sono 2800 mutazioni in un test che ti consentono di dire se tu hai superato questa soglia diciamo di sopportabilità o stai andando verso un'evoluzione positiva del tumore perché aumenta la possibilità che muti e non voglio entrare nei dettagli ma da una cellula normale a diventare una cellula tumorale a volte ci vogliono 10-15 anni noi produciamo in continuazione cellule tumorali e che vengono eliminate fortunatamente dal nostro sistema di sorveglianza immunitaria ma quando questo prende il sopravvento pure perché non abbiamo difese buone o perché si supera una certa soglia di mutazioni ecco qui il DNA normale il DNA mutato supera una certa soglia non riusciamo più a fermare il cancro e allora in alcuni casi si può intervenire prima con dei sistemi che si chiamano oggi biopsie liquide perché biopsie liquide perché tu prima dovevi andare a fare la biopsia del tumore pensate a un pancreas pensate a una prostata non era facile arrivarci dovevi entrare dentro fare un buco e prendere un pezzo di tessuto non era sufficiente a volte sbagliavi il punto perché lo facevi solo con un sistema ecografico oggi la biopsia liquida è che lo prendi dal sangue il DNA circolante delle cellule tumorali della prostata o del pancreas si libera nel sangue e tu lo puoi catturare singole molecole e analizzarle e stabilire ad esempio qual è la mutazione precisa e quindi domani il farmaco preciso questo che è uno slogan della medicina del domani che ci dice il giusto la giusta terapia o il giusto trattamento per la giusta persona e quindi è veramente un sogno della medicina personalizzata vi faccio un esempio ancora due o tre esempi poi finiamo di malattie diciamo di terapie legate ai farmaci con la farmacogenetica in alcune persone quando assumono un farmaco si sviluppa una reazione così che questa è una forma estreme ovviamente fortunatamente non è sempre così per esempio si chiama alcuni farmaci che ne so per per l'AIDS per esempio ecco c'è un farmaco per l'AIDS che nel 5-10% dei casi produceva forme di questo genere cioè la gente invece di guarire dall'AIDS moriva per quella che chiamiamo una necrolisi cutanea terribile non sapevamo cosa fosse questa malattia per anni se era un virus un batterio o qualcos'altro niente di tutto ciò era una cosa abbastanza banale è una variazione nel DNA delle persone normali che non hanno assolutamente niente che si chiama 5701 che chi ce l'ha sta benissimo ma si assume quel farmaco che si chiama Abacavir nel 5-6% dei casi e 6 positivo sviluppi quella malattia è bastato sapere questo per fare scomparire quella malattia nel 2008 in Italia è stato reso obbligatorio questo test cioè le persone positive non devono prendere quel farmaco è sparita la malattia prima del test avevamo 6% di positivi di quelli che assumevano il farmaco dopo il test dal 2008 ad oggi non abbiamo più casi del genere in Italia quindi con grande tranquillità del medico che può prescrivere il farmaco senza rischi del paziente che non ha più paura di prenderlo perché non sa cosa gli succedeva e quindi è cambiato un paradigma e questo test costa 10 euro cioè ha permesso di cambiare una rivoluzione per quali farmaci per tanti vedete lì c'è un elenco di questi di questi farmaci che oggi noi conosciamo il test e prima di assumere il farmaco nel bugiardino del farmaco c'è scritto se sei positivo fatti questo test perché altrimenti il farmaco non lo puoi prendere e un po' le precauzioni che prima erano generali vi ricordate quali erano le precauzioni se sei in gravidanza non so se hai un'altra malattia se assumi altri farmaci erano precauzioni generiche generali oggi ci sono precauzioni di una precisione incredibile il dna quindi secondo quest'altro grande scienziato che ha scoperto e che ha decodificato il dna per primo ha detto attenzione il dna quindi è alla base di tutto ma è qualcosa che fornisce la base musicale ma poi tutto il resto che c'è nella cellula fornisce l'orchestra e quindi l'abbiamo detto anche prima ci sono nel dna delle persone che sono supereroi cioè non che hanno poteri speciali quelli ancora no non li abbiamo trovati ma se per poteri speciali identifichiamo persone che hanno delle mutazioni come quelle che vi ho detto prima ma non si ammalano potrebbero essere persone straordinarie e cominciamo a scoprirne a trovarne alcune ve ne faccio vedere qualcuno li chiamano gli escapers cioè quelli che sfuggono alla malattia ma per noi sono fondamentali pensate questo è un gene che ha a che fare con la protezione se volete del colesterolo cattivo cioè c'erano persone che hanno mutazioni in questo gene e che non si ammalavano mai di aterosclerosi voi sapete che oggi questo è servito a scoprire un farmaco che è sperimentato in questi giorni e che sarà la nuova terapia per l'ipercolesterolemia familiare perché è stato scoperto da queste persone resistenti che non sapevamo perché erano resistenti e così tanti altri o come questi che ogni tanto se leggiamo sui campi di calcio ragazzine di 20 anni che crollano improvvisamente e muoiono di quella che è chiamata morte improvvisa oggi sappiamo che cos'è la morte improvvisa voglio ammettere i defibrillatori basterebbe fare uno screening genetico a chi va a fare questi sport e anche non solo il calcio ma altri per dire tu guarda che sei a rischio e non puoi farlo guardate che in America contano almeno 400.000 casi l'anno di questa patologia in Italia sono 60.000 le persone colpite eppure oggi bastano degli screening genetichi per poter prevenire questa patologia alcuni calciatori famosi Duran calciatore della Juve non so chi se lo ricorda è un nero non gioca più perché è stato fermato da noi che aveva una positività uno di questi geni perché il fratello era morto di questa malattia e quindi si è fatto lo screening su di lui e lui era positivo e ha smesso di giocare e insomma tanti altri sistemi in sostanza voglio concludere perché sono andato oltre il mio tempo chi mi avevano assegnato per dire come questo grande biologo che è Richard Hawkins ha detto guardate signori miei che se uno potesse leggere il DNA del tonno troverebbe scritta la parola mare all'interno della sua molecola chimica questo penso che sia il modo più bello per definire una molecola che è veramente straordinaria che ha tante di quelle informazioni che ogni giorno ne scopriamo una e che probabilmente è alla base di tante altre cose che ancora non sappiamo e penso di avervi dato un panorama generale poi magari discutiamo in dettaglio grazie 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 non so se se c'è qualcuno che voleva rivolgere qualche domanda qualche curiosità magari anche sul test per la ricerca della predisposizione genetica all'infedeltà all'infedeltà per esempio siete tutti interessati a questo incredibile interessante questo quante di voi si farebbero questo test qui per curiosità facciamo un sondaggio lo vedi lo vedi quello che ho detto io lo vedi di giovani non ce ne sono io lo farei lo farei lo farei è una domanda? farei bel test? grazie la predisposizione è prossima all'applicazione clinica non ho capito scusi la predisposizione è prossima ad un'applicazione diciamo correga oppure anche per lo screening siamo ancora nel senso che l'abbiamo già sperimentato noi lo facciamo già però non è ancora se vuole nel sistema sanitario nazionale cioè non è un test che lei va lì con la ricetta e lo può fare perché ovviamente deve essere recepito dal sistema sanitario e quindi ancora è un test che sperimentato a livello di ricerca non è ancora entrato dalle agenzie sanitarie nazionali e internazionali come test diagnostico e quindi non è che uno sulla base di quello domani può fare un intervento o farsi una terapia c'è bisogno di una fase di chiamiamola così di regolamentazione noi la chiamiamo qualificazione del test però diciamo che a livello personale in alcuni casi qualcuno lo può fare lo offrono anche l'IEO a Milano lo offre lo fa già e noi lo usiamo anche soprattutto cerchiamo di farla a tutti diventerebbe una cosa incredibile anche perché poi quanto avremo bisogno di grandi studi ancora su grandi numeri per poter dire perché finora l'abbiamo fatto su quelli che erano già malati quindi è più facile quelli che noi chiamiamo studi retrospettivi sui prospettici ci vuole molti anni perché dobbiamo farlo sulle persone sane e vedere fra 10-15 anni i risultati quindi è chiaro che noi possiamo aspettare tanto stiamo cercando di focalizzare di limitarlo ad esempio a persone che abbiano una certa familiarità in alcuni tumori allora lì sì può avere un senso secondo me qualunque test genetico tutti quelli che vi ho detto al di là di 23 e me di questo test americano noi li facciamo tutti ma in Italia abbiamo introdotto un sistema di cautela molto importante cioè obblighiamo o veramente raccomandiamo come Ministero della Salute di fare una consulenza genetica pre e post test cioè prima del test poi fai il test e poi dopo il test un'altra consulenza come quel mio amico inglese è venuto fuori tutto quello e uno se lo fa in America poi arriva e poi vengono da noi e dire ma mi è arrivato tutto questo che devo fare ecco questa è la consulenza post test ci vuole chi lo interpreta il risultato perché non è facile interpretare molte di quelle variazioni che tu trovi sono benigne non hanno alcun significato clinico e non basta un medico normale per dirlo ci vogliono specialisti e sono pochi oggi in grado di capire tutte queste cose ci vuole un po' di tempo non ci sono altre domande allora concludiamo è stato chiarissimo e un'ultima informazione allora quest'anno l'agenzia spaziale italiana e l'istituto nazionale di astrofisica hanno dedicato all'edizione della festa di scienze e filosofia del 2017 l'ultimo numero della rivista global science e la potete trovare in distribuzione gratuita in tutte le sale delle conferenze e delle attività della festa anche di sotto all'ingresso la potete ritirare se volete vi ringrazio ciao a voi